Do Major 7 lo registro. Sulla Loop Station metto questo Do Major 7. Do, B, Sol, Si, che può essere vista come Do, ma anche come Mi minore. Quindi per ottenere la sonorità di Do Major 7, invece di suonare l'arpeggio Do Major 7, che impareremo ad esempio questo, possiamo suonare Mi minore e anche questo lo vedremo. . 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 Base Ama 1, Do Major 7 lo prepariamo. . . . . . Se puoi far sentire questa sonorità un po' sospesa della nona e della settima, usiamo Si minore su Mi minore. . . . . Ok? Perché se usiamo Mi minore non creiamo tensione. . 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 E vado sempre a risolvere. Lo prepariamo e lo suoniamo. Sono delle fiammati. Cose del genere. 3, 4. In una sonorità Lidia, lo preparo. L'importante è che lo risolvo, questo era Si minore, posso fare questo Si, ok. E' sempre. One, two, three, one, two, three. One, two, three, one, two, three. E ci giochi. Eccetera. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi. Ho usato la minore e il fa diesi semidiminuito. Ok? Situazione molto più pop. Fa settima maggiore. Di nuovo. Quindi abbiamo mi minore e settima nona, sol major 7 nona, la minore e settima nona e li sentiamo così. Possiamo alternare le voci. Ok, come abbiamo già visto, plettra e dita. Cento. E minore e settima. 1, 2, 3, 4. Novanta. 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 Ok? Novanta. Novanta. Abbiamo la base. Ancora. Ancora. Sera. Ok. Veloce. Mi minore settima. Veloce. Solo major 7. Veloce. Quindi avrò di fondo. Sol. Veloce. 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 Eccolo. Eccolo. Ok. Puoi anche suonarla frammentata. Amaventi. Quintine e sestine. 1, 2, 3, 4. Ora. Ama 17. Mi minore. Amaventi. Mi minore. Fondamentale, nona, quinta bemolle, settima minore, nona maggiore, terza maggiore. Iniziamo molto melodici. Eccolo. Eccolo. L'importante è che io finisca su una nota strutturale. Posso partire da qui. Devo sempre risolvere la nota. Ama 16. Facciamo prima fino alla nona. Quindi La minore settima e Do major 7. Di nuovo. Fino all'undicesima, Do major 7 e Mi minore settima. Che sarà. Ok. Properiamola. Il pattern. Facciamolo funzionare musicalmente. Quindi. Qui abbiamo sempre la pentatonica. Quindi arpeggio di Mi, arpeggio di Si, pentatonica di Mi, arpeggio per il Mi, arpeggio per il Si. Quindi, proviamo. For people. e lo vado a risolvere di nuovo sonorità dorica ama 5 in mi minore stesso pattern sol fa sol rivolto mi minore remis solidio sonore settima parto dalla settima do avrà una sonorità lidia ma rispetto a remis solidia quindi sarà e quindi o questo o questo di nuovo iscriviti al canale Grazie a tutti